Io penso che nel campionato italiano i risultati scritti non ce ne sono, il lente cercherà di, come sempre, cercherà di fare una partita di calcio, non siamo mai andati a fare barricate, quindi penso che la Roma possa essere una partita che noi affronteremo chiaramente sapendo della forza della squadra della Roma, però nello stesso momento sappiamo anche noi e abbiamo fatto delle buone partite anche contro le blasonate, quindi cercheremo di mettere in difficoltà la squadra giallorosa. Sicuramente Ligeric ha portato un po' di nuovo, c'è bisogno di tempo, quindi una squadra come la Roma secondo me c'è bisogno che assimilano, penso, questo è il mio pensiero, che assimilano quelli che sono i concetti che la relatore gli sta dando, però nell'insieme così a vedere mi sembra una squadra piacevole da vedere, simpatica, quindi secondo me c'è solo da far meglio, a me piace moltissimo, non ci sono tanti portieri stranieri che mi entusiasmano, è un portiere che a me piace molto, quindi ha tutte le qualità secondo me che un portiere deve avere, è un portiere che compra molto bene la porta, è un portiere che nell'uno contro uno si fa valere malgrado l'altezza, quindi è bravo a tenere palle a terra, è un portiere complesso. I ricordi di Roma possono essere belli, perché Roma è una piazza particolare, è un ambiente dove penso in Italia che ce ne siano pochi, quindi il fatto di essere rimasto di due anni per me è stato motivo di orgoglio e nello stesso momento ricordo quel periodo con grande affetto.